Poi ovviamente siamo in due e quindi per fare le cose bisogna essere d'accordo in due, ogni tanto i 5 Stelle sono un po' dei bastiancontrari e sì e no e forse e dipende e vediamo perché sulla flat tax un po' sì e un po' no, sull'autonomia un po' sì e un po' no sui porti, sui porti chiusi però ogni tanto sono per i porti socchiusi, per i porti un po' aperti, porti semi aperti finché faccio il ministro dell'interno e mi occupo di sicurezza in questo paese in Italia non si arriva in Italia non si arriva se non si ha il permesso di arrivare, questo è ho preso l'impegno, mi è costato una sequela interminabile di denunce, minacce, attacchi anche sui muri di Torino ho visto Salvini muori, Salvini crepa, sparate, poi sono i democratici poi loro sono i democratici, ma lo fanno così per scherzo, Salvini a testa in giù, Salvini a piazzale Loreto non sparate a salve ma sparate a Salvini, Salvini muori, Salvini crepa, a me non fanno né caldo né freddo ogni tanto mi spiace perché ho due figli e quando magari vanno su internet ci rimangono un po' male però sappiano questi signori che più mi attaccano, più mi minacciano, più io vado avanti come un treno non sono quattro zecchi a spaventarmi sicuramente